Allora era lo spoglio di quelle elezioni alle ultime e sarebbe stato sufficiente come è stato assistere per sentire capellacci, capellacci. Lunedì è stata la stessa cosa, il Pilietre non è morto, è vivo, è più vivo che mai e chi ha ancora qualche dubbio, lunedì potrà sentire. Popolo della libertà, popolo della libertà, popolo della libertà. Popolo della libertà, con la passione nel cuore, nell'anima, con la sardegna in testa. Grazie.